Quindi è stato un episodio che ha negato con dei fatti ciò che noi ci sforziamo di insegnare a questi ragazzi. Una settantina di docenti del liceo Forteguerri di Pistoia e altri 82 tra docenti e assistenti tecnico-amministrativi dell'istituto Sismondi Pacinotti di Pescia si uniscono ai 65 professori e professoresse del liceo scientifico Amedeo di Savoia Duca d'Aosta nel condannare quanto accaduto lo scorso 23 febbraio a Firenze e a Pisa durante le manifestazioni degli studenti per il cessato e il fuoco in Palestina. Il documento è scaturito nell'immediatezza dell'episodio relativo alla carica della polizia contro i giovanissimi studenti di Pisa e Firenze soprattutto l'episodio di Firenze. Io quando sono tornata a casa da scuola il venerdì fra l'altro avevo mio figlio minore che per impegni universitari sapevo che doveva transitare da quelle zone in quegli orari sono venuti i propri brividi. Come abbiamo scritto nel documento, aggredire in modi violenti fisicamente dei giovani che magari con toni non appropriati manifestano per una cosa che sta al loro cuore e come ha detto il Presidente della Repubblica è un fallimento, è un'occasione persa di dialogo. Noi insegnanti siamo chiamati a trasmettere attraverso le nostre discipline, compresa l'educazione civica ma anche con l'esempio nostro siamo chiamati a trasmettere i principi della Costituzione e in questo caso insomma tutto questo è mancato. Spesso scrivono gli 82 docenti assistenti del Sismondi Pacinotti di Pescia ci lamentiamo che gli alunni siano passivi che passino la loro vita davanti e dietro ad uno schermo ma quando affermano un'idea e la portano in piazza li reprimiamo. Come possiamo pensare si chiedono i firmatari del documento ad un'alleanza generazionale che dia futuro a questo nostro paese.